Sabrina Salerno, chi è il marito Monti, età, lavoro, vita privata, figlio. Tutto pronto per una nuova puntata di Da Noi a Ruota Libera. Anche quest'oggi a partire dalle 17. 20 Francesca Fialdini è pronta ad allietare il pomeriggio degli affezionati telespettatori. Numerosi gli ospiti che si avvicenderanno nel salotto della Toffanin, tra di loro anche Sabrina Salerno. Ma conosciamo meglio Enrico Monti, la sua dolce metà. Enrico Monti è nato in Veneto nel 1968 e oggi ha 55 anni. Non si hanno molte altre notizie in merito. Perché lui è sempre stato molto discreto sulla sua vita privata. Fin da giovanissimo è un imprenditore del settore tessile. L'uomo gestisce un'azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, anche se originariamente. Era stata pensato per confezionare soltanto camice. Un importante riconoscimento investe l'azienda che nel 2014 viene riconosciuta come una delle migliori realtà italiane del settore. Enrico Monti è legato a Sabrina Salerno da oltre 26 anni. I due si incontrarono nel 1994 in una situazione un po' incerta. Lei era fidanzata con un altro ragazzo. E pare che lui fosse già sposato. Questo non li ha fermati, perché da quel momento non si sono mai più lasciati. Il matrimonio è arrivato molto tempo tempo e sono convolati a nozze nel 2006. Ecco cosa ha detto la cantante sul conto del marito durante la trasmissione di Millie Carlucci ballando con le stelle. Che la vede protagonista assieme al maestro Peron, Io stimo mio marito in una maniera incredibile. Perché per me è un uomo pazzesco, ha un'anima, un'eleganza, non giudica, ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani. Virgola io ho degli attimi di grande follia e scoramento, dove vedo solo buio e devo dire che grazie a lui e grazie a mio figlio. Che è la mia luce coppia riservata e pacata, Sabrina Salerno e Enrico Monti vivono lontano dalle luci dei riflettori in una villa attreviso con il loro unico figlio Luca Maria, che ha appena compiuto 18 anni. Enrico Monti ha un proprio profilo Instagram che utilizza per condividere con i follower i momenti della propria quotidianità. Il suo account, Enrico Monti TV, è seguito da oltre 3000 persone. Grazie a tutti.